Qualcun visita sulla Città di Italia? Welcome to the Pinto Reale degli Italiani ... ... This is the real size, the original size. There is not a reproduction. Welcome to you, the new Beretta BX-1 Riffle! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.